In studio è approdata una novità assoluta che a dire il vero avevamo già ripreso con le nostre telecamere durante il Salone di Ginevra, ma oggi sarà esclusivamente nostra. Di quale auto sto parlando? Della nuova Sanyong Corando. Di lei ci parlerà però approfonditamente il nostro ospite in studio. Buonasera cari amici di Safe Drive, benvenuti in studio anche da parte mia. Ringrazio Elisa che ci ha passato la linea e proprio come dicevi tu Elisa oggi parliamo di un modello davvero importante che ha fatto un po' la storia dell'automobilismo in Italia e anche in Europa. Ne parliamo con Maurizio Melsi che è brand manager di Sanyong Italia. Ciao Maurizio, grazie di averci raggiunto in studio. Grazie a voi per l'invito Alice, è sempre un piacere. Allora ci hai portato una vera novità del marchio che rappresenti, la nuova Corando, un modello che per voi è stato fondamentale, che ha avuto grande seguito anche qui in Italia. Prima di parlare di questa nuova generazione io direi facciamo un po' la storia della Corando, come è stata accolta dal pubblico quando è arrivata, quando è arrivata, in che anno e anche qualche numero magari. Volentieri, hai proprio ragione. Corando rappresenta un po' una pietra angolare della costruzione del nuovo marchio Sanyong. È una vettura che è stata pensata alla fine degli anni 10, come si dice, e che è arrivata sul nostro mercato appunto fra il 2010 e il 2011, come pure su altri mercati europei. Con una particolarità, che per la prima volta il costruttore coreano aveva iniziato un progetto pensando, focalizzandosi anzi scusami, sul mercato europeo. Corando è stato seminale nello stabilire questi punti focali della progettazione Sanyong. Attenzione al mercato europeo come stile, come contenuti, grandissima varietà nella scelta, quindi c'è un Corando per ogni esigenza. Prestazioni all'altezza, attenzione, non parliamo di prestazioni che il cliente magari o l'ascoltatore intende la velocità. No, no, noi parliamo prestazioni a tutto tondo. Quindi come risponde una vettura? La vettura deve rispondere in tutte le condizioni, anche e soprattutto in quelle di sicurezza. E quindi siamo molto contenti del cammino che abbiamo intrapreso con Corando, ormai giunto a questa edizione, diciamo, ha una maturità ancora molto evidente. Peraltro, se mi permette, diciamo che da Tivoli in avanti, Sanyong ha fatto veramente un passo grande, anche dal punto di vista dello stile. Torniamo a Corando. Corando che si inserisce, insomma, getta di nuovo la sfida al segmento dei SUV. Insomma, quali sono i punti di forza con cui va a combattere contro le concorrenti? Noi riteniamo che Corando abbia un punto di forza principale che rappresenta un po' l'anima della vettura e delle costrutture. Nel senso che la scelta di motorizzazione fatta dai colleghi coreani, che mi vede particolarmente convinto, è andata a privilegiare il rapporto di coppia. In questo segmento Corando esprime la coppia più elevata, prendiamo di 400 Nm, un valore di tutto rispetto, ha il numero di giri più basso, 1400 giri. Basta una semplice accelerata e la vettura risponde. Quindi è una scelta di potenza intelligente, una cosa che ci tengo a sottolineare, perché la potenza di per sé non vuol dire assolutamente nulla. Bisogna vedere dove è utilizzata. Questa è una vettura che si situa in un segmento dove queste sono le dimensioni, questi sono i pesi. E noi riteniamo che un motore potente possa meglio facilitare l'utilizzo della vettura. Non ultimo il piacere di guida. Maurizio, visto che appunto mi parlavi di motori, magari vuoi proprio un po' raccontarci qual è la gamma che offrite? E poi non possiamo non parlare del design che è stato rivisto e anche del comfort interno, anche infotainment all'avanguardia. Sì, diciamo, abbiamo già parlato del motore, i motorizzazioni disponibili sono due. In realtà, tre, abbiamo un 2 litri benzina, che è una scelta che vedo che sta ritornando nella testa del cliente. Abbiamo comunque una scelta un po' ecologica, un po' di risparmio, che è il B-Fuel, quindi benzina GPL, sempre basato ovviamente sul 2 litri benzina. E poi, come anticipato, abbiamo un 2 litri e 2 diesel da 178 cavalli, ma soprattutto con quei valori di coppia mostruosi che ti dicevo prima. La gamma in realtà è una gamma tutto sommato semplice, noi abbiamo tre livelli di allestimento, su questa, come su tutto il resto della gamma, adesso parlando di Rodios, di Rexon, eccetera, è disponibile il sistema, in questo caso il wheel drive, che riteniamo più utilizzabile dalla tipologia di cliente che compra queste vetture. Dal punto di vista del design, Alice, l'hai già detto tu, io l'ho anticipato, sempre frutto di una metà italiana, ora ha modernato seguendo, e questo è importante perché tu l'hai anticipato, soprattutto nel frontale, gli stilemi imposti da Tivoli, che è stata molto apprezzata proprio per questa voglia di rompere un po' gli schemi. Continuiamo a parlare di sicurezza, Sangyong corando, si parla tanto di sistemi di assistenza alla guida, cosa propone da questo punto di vista? Diciamo che, anche qua è il massimo, dobbiamo fare, scusami, è doveroso, una differenza tra sicurezza attiva e sicurezza passiva. La sicurezza passiva, qua cito un po' una battuta che ho usato recentemente e che vorrei trasmettere anche ai tuoi telespettatori, i sette airbag non danno l'immortalità, sappiatelo, bisogna sempre essere molto attenti quando si guida, però la vettura li ha, la sicurezza attiva stanno nei valori di coppia che ho detto prima, nella sensazione di guida è molto importante sentire le ruote, dove sono, perché questo è un elemento di sicurezza, nella postura di guida abbiamo dei sedili a bordo di Corando, come sugli altri modelli Sangyong, che trattengono molto, significa stancarsi meno, anche quando si guida per lunghe percorrenze. E quindi questa è la sicurezza attiva, essere sempre avanti rispetto alla vettura che stai guidando. Diciamo che già nella versione di due ruote motrici, i sistemi di elettronica a bordo, che fanno le classiche SP, SR, tutte le fighe che sentiamo valare, sono fatti proprio per aumentare la sicurezza. E anche su questo punto di vista, Corando, come il resto della gamma Sangyong, è assolutamente al livello del tempo. Bene, ti ringrazio anche per questa spiegazione che spesso noi non ci soffermiamo a fare. La differenza tra attiva e passiva non tutti i telespettatori la conoscono, ogni tanto è giusto andare ad approfondire. Io faccio sempre, perdonami questo scherzo, cito una famosa prova che ormai tutto il pubblico conosce, la famosa prova dell'alce, no? Allora, la sicurezza passiva è che quando l'alce ti si spiaccica sul vetro tu riesci a uscire. La sicurezza attiva è proprio evitarlo l'alce. Va bene, speriamo che non ci siano molti alci qua nei ditori di Milano. Ecco, Maurizio, purtroppo il tempo sta per terminare, però non possiamo salutarci prima di aver parlato un pochino dei prezzi. Voi siete famosi per il rapporto qualità-prezzo per quanto riguarda Sangyong e anche su Corando, immagino abbiate una strategia da questo punto di vista. Sì, noi abbiamo sempre un po' anche questa idea del valore concreto, no? Quindi anche qua siamo stati un po' aggressivi, nel senso che il cliente italiano può salire a bordo di Sangyong con un prezzo che di listino è di poco superiore ai 20.000 euro, ma in realtà abbiamo lanciato la vettura già con una promo di ben 2.500 euro, per cui si sale a bordo di Sangyong attorno ai 18.000 euro. Per arrivare al non plusulta, che è una limited veramente carica, come diciamo noi in gergo, quindi una vettura diesel, automatica, all-wheel drive con gli interni in pelle, che arriva a toccare di listino i 32.000 euro, ma con la promo che è valida sotto la gamma ed è già attiva almeno per i mesi di maggio e giugno presso i concessionari Sangyong, siamo sotto la soglia, quella psicologica, di 30.000 euro. Va bene Maurizio, dobbiamo chiudere purtroppo, io ti ringrazio per tutti i dettagli sulla Corando, ci vediamo nelle prossime puntate con le novità di Sangyong. Sì, ho anticipato che ci sarà una novità importante per il mercato italiano e volentieri sarò ancora vostro ospite, ne approfitto per ringraziarti dell'invito e auguro una buonissima serata a tutti i vostri telespettatori. Bene, grazie anche da parte mia e grazie soprattutto per averci seguito.